Presidente, perché queste elezioni amministrative sono così importanti? Perché sono tanti gli italiani chiamati alle urne, 1134 mi sembra comuni, alcune grandi città, Milano e Napoli innanzitutto, io credo che siano importanti perché si devono confermare delle amministrazioni del centro-destra che hanno ben operato in diverse città importanti e si devono cambiare certe amministrazioni di sinistra che hanno operato malissimo in una città per esempio come Napoli e poi sono importanti anche perché da una vittoria del centro-destra può venire una spinta che dà ancora maggiore slancio, maggiore fiducia al nostro governo nazionale che ha di fronte due anni di straordinario lavoro perché con ciò che è successo alla Camera dei Deputati dove il 14 di dicembre la sinistra in accordo con Fini e con Casini ha tentato di farci venire meno la maggioranza si è invece costruito una terza gamba a sostegno del governo si è costituito un gruppo di parlamentari provenienti dal gruppo misto e da altre forze politiche molto in sintonia con noi che ha garantito una nuova maggioranza al governo e il sostegno per realizzare quelle tre grandi riforme che fino ad ora non eravamo mai riusciti a realizzare perché all'interno della nostra coalizione di maggioranza c'erano delle forze stataliste e giustizialiste che erano contrarie, le riforme le conosciamo sono la riforma della giustizia assolutamente indispensabile per garantire una vera libertà e una giustizia giusta ai cittadini la riforma delle imposte per arrivare dal ginepraio di leggi attuali a un unico codice fiscale anche in questo modo riuscendo ad abbattere finalmente le aliquote non è vero che abbattendo le aliquote si diminuiscono le entrate dell'erario tutti gli esempi che abbiamo a partire dall'America dimostrano il contrario se un cittadino sente che lo Stato gli chiede delle cose che sono giuste è portato a non sottrarsi al pagamento delle imposte viceversa è portato a sottrarvisi se sente che le imposte sono esagerate quindi tutte le volte che si sono ragionevolmente abbassate le aliquote degli imposte normalmente gli erari dei vari Stati hanno incassato di più e infine c'è da modificare l'architettura istituzionale dello Stato tra l'altro dimezzando anche il numero esorbitante di parlamentari che oggi abbiamo quindi io annetto importanza a queste elezioni e dentro di me sono sicuro che gli italiani che non sono degli sproveduti premieranno il nostro governo e soprattutto diffideranno di quella sinistra con cui abbiamo a che fare che è una sinistra disastrosa Entriamo nel merito della città di Napoli il capoluogo partenopeo non vive certo un bel momento tra le prime due emergenze che io posso annoverare ci sono sicuramente quella sui rifiuti e quella sull'abbattimento delle case abusive ecco come dovrà risolvere il problema Gianni Lettieri se verrà eletto Allora per le case abusive io ho già pronto un provvedimento lo mostrerò nel comizio con Lettieri e è un provvedimento che rinvia gli abbattimenti sino alla fine del presente anno in modo da darci il tempo per affrontare con serenità il problema e trovare una soluzione che non può essere quella dell'abbattimento Per quanto riguarda il problema dei rifiuti Lettieri è assolutamente convinto di poter dare a Napoli quella modalità di smaltimento che hanno tutte le grandi città non solo italiane ma del mondo e soltanto a Napoli si verifica quello che si è verificato e che purtroppo si verifica ancora oggi e io ancora questa settimana ho dovuto mandare i nostri militari per portare via dei rifiuti dalle strade di Napoli e questo perché? Perché dopo che miracolosamente il governo con una mia diretta responsabilità aveva risolto il problema, la tragedia direi dei rifiuti di Napoli e della campagna tre anni fa nei primi miei due mesi di governo noi in 58 giorni pulimmo Napoli e la campagna dai rifiuti ma venendo via da quella situazione risolta con il termovalorizzatore di Acerra che entrò in funzione e che ha dato un aiuto assoluto a regione, provincia, città per lo smaltimento dei rifiuti indicammo nella realizzazione di tre termovalorizzatori la soluzione definitiva indispensabile e indicammo anche la necessità di aprire nel momento della transizione delle nuove discariche e anche di procedere a una raccolta differenziata dei rifiuti ora nulla è stato fatto da parte dell'amministrazione comunale della sinistra io credo perciò che il problema si possa e si debba risolvere e vedo in Gianni Lettieri che abbiamo appositamente scelto come imprenditore proveniente dalla trincea del lavoro un uomo pragmatico, concreto non un professionista della politica che nella vita ha fatto soltanto quello ha soltanto chiacchierato eccetera eccetera ma un uomo capace di affrontare una situazione difficile e di risolverla lui è risoluto al riguardo e credo che annuncerà che il comune sospenderà la riscossione della imposta sui rifiuti finché a Napoli ci sarà ancora un mucchio di rifiuti questo per dire che lui è assolutamente convinto di poter affrontare e risolvere definitivamente questa situazione nel decreto approvato la settimana scorsa c'è una norma a favore del sud sì ci sono diverse norme interessanti tra l'altro ce n'è una che riguarda anche i precari del sud della scuola perché assumeremo 65.000 precari insegnanti ed altro personale delle scuole poi c'è anche una norma che abbuona il 90% degli investimenti che le aziende volessero fare collaborando con le università e quindi riguarda anche il sud e ce n'è una espressa per il sud che dice che saranno ridotti del 50% i costi salariali per le imprese che assumessero a tempo indeterminato i cosiddetti lavoratori svantaggiati cioè i lavoratori che non hanno lavoro da sei mesi o gli over 50% senza lavoro credo che questa norma a cui abbiamo destinato fondi che vengono dall'Europa per 6 miliardi sarà una norma molto efficace che porterà alla creazione di molti nuovi posti di lavoro specialmente per i giovani grazie presidente grazie molto a lei